per bella ragazza di questo nuovo video, io sono DamoneGamer03 oggi siamo su Call of Duty, potremmo fare 2, siamo sulla parte 4 si, siamo nella parte 4 ah già ok ho capito ah ho capito dov'è? di qua? ok dove si va? dove si va? mi sa che dobbiamo andare di qui perfetto abbiamo colpito le gambe perfetto perfetto ok dopo averlo colpito le gambe ora dobbiamo inseguire qua i nostri amici quindi cosa devo fare? mona vai mona mi sa che non mi cazzo eh ecco i mona oh attacco di mona ecco i mona un altro un altro perfetto c'è un altro no granata granata no non si è scappata no granata le tue no c'è altra gente che vuole eeeh che si dà si molto contenti di provare gli amici della trovata eh si si loro sono molto contenti che si moda ma c'è l'idea che anche loro vogliono farmi più vari di loro non so però i miei fanno più parti con loro eh ma forse quel danno ha contrariamente ho ucciso di giocando a quella corte mi sa eeeh vediamo vediamo il gioco ma dice nessuno vabbè 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 io eeeh 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 capito ho sbagliato andato a sparare capito spero non aver finito il mio baglio mi sa che il mio sbaglio l'ho colpito ma in teoria non dovessi sbagliare quindi meglio così ma quanta gente però eeeh calmo 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 buoni state calmo state calmo state calmo va eeeh vieni qua va vieni qua mona vieni qua mona eeeh mona ehi mona dove sei mona aspetta che c'è un mona qui aspetta che non si riesco a farlo fuori quanto metto no mi sono incastrato eh lo so ma mi ero incastrato i mobili vieni qua vieni qua brutto incastrarsi aaaaaaaaaaah dove 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 e li incastro sempre aspetta Ma di Mona ci sono Via di Mona Eh Già che non mi ricordo i comandi raga Oh dio Non mi ricordo i comandi Non ci credo sia possibile Allora Allora Questo è per contello La cata poi di gioco è un po' però C'è un seguito di comandi No 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 Dove dove non rivela No basta frenate Eh però allora l'ho fatta apposta Con queste frenate però è E' molto vestigioso C'è Come dire fa sclerare abbastanza C'è certe missioni fa una sclerare abbastanza Tutto le granate non so come non lanciarle C'erano sempre da play a Garaf Da piccino non ho mai giocato Con i comandi Eh e che devo fare C'erano 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 Non so se ce la faccio Non ci sto comandando troppo 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 E con un altro monaco Eh Che ero che ho... devo concentrarmi eh Prima non mi ero concentrato Volevo essere senza concentrato Perfetto Sto finendo i colpi? No Non sto finendo i colpi Bene in basso Speriamo che in basso Non ci hanno dato altre colpi Eh vabbè però Avete chiamato compagnia Potete la gett Non mi sa Perfetto Perfetto Venti mona Vai Venti mona va Venti mona Hai rotto i coglioni Certo che scassano sti qua eh Scassano abbastanza i baroni eh Basta Basta Sparare Avete rotto Eh no come si scavalcano Mi sento scavalcato qualcosa Ho l'impressione No ma si sa No ok 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 Non c'è tempo per aspettare rinforzi Devi occupartene da solo Buona fortuna Chiudo No ma non c'è tempo 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 Si allora che ci sono i cani Che ci sono i mona Ci sono i mona Ci sono i mona E i cani E evitiamo che torni indietro A prenderci alla sprovvista Andate avanti E bloccatelo là su in cima Si è occupata bastiano Non c'è tempo Non c'è tempo per aspettare rinforzi Devi occupartene da solo Buona fortuna Chiudo Questo è il loro territorio Lo conoscono bene Tra i miei Guardati bene intorno Merite ora Tra anni dopo Mi dico tra anni dopo E vediamo che torni indietro A prenderci alla sprovvista Andate avanti Trocatelo là su in cima Ma Non mi conosco Non c'è tempo per aspettare rinforzi Devi occupartene da solo Buona fortuna Chiudo Questo è il loro territorio Lo conoscono bene Fa attenzione agli agguati Guardati bene intorno Ma dove? Madonna Incendio zero a min Oh no 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 Brutta roba Dammi un'arma F Ma ti pareva Tutte scariche C'è un'altra arma C'è questa sempre Eh però da dov'è che devo andare? Non ho ben capito raga Aspettate un'altra Forse di qui Roche Roche attento ai tetti Ce la siamo vista brutta Con gli RGG E le mitragliatrici Piazzate lassù Roche Siamo sotto tiro Ma riesco ancora a seguire Rochas È entrato in un edificio Tost Ma sono entrato Precevuto Si sta rabbicando sopra un tetto Accorse una borsa La borsa Dovrebbe rallentarlo Roche Faremo in modo che non torni indietro Tu va avanti Intercetta Va! Vada Vada Ghietto Si vabbè Ghietto Davanti In sinistra Da 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 Allora Si Avevano gli spazi Se non c'è più Perfetto Dov'è la strada? Ce la siamo vista brutta Con gli RPG E le mitragliatrici Piazzate lassù Mi sa che non mi cassa eh Dov'è? Roche Siamo sotto tiro Ma riesco ancora a seguire Rochas È entrato in un edificio Non ho giocato a questo cazzo Dovendi Ricevuto Si sta arrampicando sopra un tetto Accorse una borsa La borsa Dovrebbe rallentarlo Roche Faremo in modo che non torni indietro Roche Va avanti e intercetta Va! FG AK47 Niente Vino a provo capito Vino a provo capito Non so ma Roche Non fatti bloccare troppo Usa le granate accecanti sulle milizie L'ho perso di nuovo Ghost Rispondi Ce l'ho Sta cercando di tornare indietro Passando da sotto Ma non so Ma qual è la strada? Raga Se sapete La strada di tipo Non c'è anche Che ti faccia schifo veramente Ma Mi sa che ho Più schifo Sto ogni gioco Non so Questa impressione Oltre fortnite Mi sembra Non so Non so Ma Devo andare lì Allora sinistra A destra Qua non c'è Qui Sarà chiusa Giuro che mi sta avendo un mal di testa Quando Quando il metano Non so Sinistra Destra Non so 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 Si Si è qua Madonna Simona Guarda Allora La strada Ma è tutto chiuso O Forse No Forse Ho capito Forse ho capito la strada Si però Forse ho capito la strada Ora non la faccio Ho capito ma vai Difficile Aviva No Il Non so Il 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 Oh Il 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 Dimmi che non ce ne sono più Siamo in cima, continuo a spintolo in quella direzione, vai vai! Allora, no raga, oh ma non si può dire qualcosa Ah, non si è trapito, non ce la potevo fare, ma Allora, no, 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 no Ma da dove è? Perfetto Ce ne sono altri? No, vabbè raga No, vabbè Non c'è più qua No, vabbè No, vabbè No, vabbè No, vabbè No, vabbè Tutt studio No, vabbè Continua spingerlo in cima, lo sanno tornare indietro Continua spingerlo in cima, lo blocchiamo da su Eh non posso, son ferito Il colpo mi ammazza negativo a meno che tu non voglia portarlo fuori con le sue milizie che ti soffiano sul collo mi serve intero ghost vado in là a destra sto scappando non ci credo ce l'ho fatta raga non ci credo ce l'ho fatta è bella difficile, è tosta ed è la prima volta che gioco la maostra stiera a cloud of duty raga sono serio non credevo neanche di farcela buono inizio raga, buono inizio sent bravo rileviamo 70 segnali non identificati nel vostro settore verificate per favore molto divertente comando assolutamente negativo, passo uno dei moduli di ACS potrebbe essere guasto sent bravo, attenzione avvio programma di diagnostica per rilevare difetti di funzionamento comando, spazio aereo libero avete dei contatti fantasma sui vostri radar, passo solo X-Ray 6 rileviamo nel vostro settore la presenza di 100 segnali non identificati negativo di farcela è stato pazzesco ho fatto fuori tutti i mona che mi sparavano è stato bellissimo potremmo avere un problema con un ACS hai nulla nella tua visuale certo, alcuni erano veramente forti alcuni erano delle armi veramente facendo molto fanno c'era delta, ripeti cioè con quelle mitragliatrici erano un po' veramente di uno stile cioè rimanete in attesa, tento di controllare l'unità più vicina al settore tutto il momento che mi ha riparo quindi... non c'è un peccasso a fianco con le porte aperte sorveglianza satellitare disabilitata sistemi Sonsus e PayPose al momento non operativo e vabbè raga, allora abbiamo finito qua la parte 4 e raga concludo qua il video e ci vedremo nella parte 5 e vabbè raga, vi saluto a questo tempo in Game 1-03 e ci vedremo nella parte 5 bella raga grazie grazie